Cerchiamo bellezza Cerchiamo bellezza nasce da una proposta della Presidenza del Consiglio, Ministero per la Gioventù e della Regione Piemonte. L'idea era coinvolgere giovani in attività artistiche e di spettacolo non solo per fornire strumenti professionali, ma usando l'arte e lo spettacolo per comprendere la realtà che ci si muove intorno, come strumento per acquisire consapevolezza. Nel 2011 abbiamo fatto un film che si intitola La paura sicura. Preparando il film avevamo capito che girano parole di cui abbiamo perso il significato profondo. Il significato vero di sicurezza, per esempio, si è dissolto nella polizia armata che sorveglia le città, nelle telecamere che non ci perdono mai di vista, nelle ordinanze restrittive di sindaci e governanti. Ma con tutta la polizia che abbiamo intorno, con tutte le telecamere e le ordinanze restrittive, non è che ci sentiamo più al sicuro. Forse è vero il contrario. Dimmi, Winston, e ricorda, niente bugie. Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il grande fratello? L'odio. Devi amarlo. Obbedirgli non basta. Devi amarlo. Stanza 101. I cosiddetti sistemi di sicurezza sono sempre più una prigione che ci costringe il corpo e anche lo spirito. Il film finiva con questa frase. Alla fine di questo viaggio, nelle paure degli italiani, una cosa l'ho imparata. Ho imparato che la sicurezza, più che con la polizia, le telecamere, le ordinanze, ha a che fare con la conoscenza, con la verità, con la bellezza. Ecco, bellezza è un'altra di quelle parole che passano di bocca in bocca ma di cui è difficilissimo comprendere il significato. Da qualche tempo tanta gente parla di bellezza, i politici per esempio. La bellezza è il petrolio italiano, si sente ripetere. Ma cosa significa? Così abbiamo pensato che il progetto che ci proponevano poteva servire a capire qualcosa sulla bellezza. Per cominciare, siamo andati in giro per il Piemonte a mostrare la paura sicura in scuole, associazioni, parrocchie, in posti frequentati da giovani. Le prime persone che ci hanno dato retta le abbiamo trovate a Vercelli. E allora cominciamo a cercare bellezza a Vercelli, una di quelle province che leggi sui cartelli mentre vai verso metropoli come Milano, Torino, dove la vita e l'arte vibrano veramente. Ma la bellezza è meno evidente di quanto pensiamo. Vercelli è la città del riso. È un gioiello medievale con chiese bellissime. Questa è la chiesa di San Cristoforo affrescata da Gaudenzio Ferrari, il più grande artista del Rinascimento piemontese. Ci sono anche le mostre Guggenheim. E Peggy, Guggenheim, ha dedicato la sua vita a cercare l'arte, la bellezza. Il padre di Peggy era sul Titanic quella notte. E quando capì di non avere scampo, l'ultima cosa che fece fu indossare il suo abito migliore. E Peggy, che era una bambina, ereditò un patrimonio immenso. Anche noi italiani, tutti, abbiamo ereditato un patrimonio immenso. Ma questo patrimonio sta sprofondando sul Titanic dell'Incuria senza nemmeno un buon abito con cui darsi la dignità della fine. Qui a Vercelli, però, hanno costruito un'arca per portarla in salvo un po' di bellezza. Via gli alberati, la Basilica di Sant'Andrea. Arrivi all'arca e sembra di stare a Parigi, con anche i bambini dell'asilo che si godono i mobili di Calder, gli sgribizi di Miró e la fila di adulti in attesa per entrare. E allora vediamo quanti ragazzi troviamo disposti a cercare bellezza insieme a noi. Arriviamo a Vercelli d'estate. Le scuole sono appena finite. Installiamo il primo set nel Salone Dugentesco e il primo laboratorio teatrale all'interno del bellissimo Chiostro di Sant'Andrea. Ma sarà che d'estate hanno altro a cui pensare? Ragazzini disposti a cercare la bellezza insieme a noi scarseggiano e anche a fermarli per strada si fa fatica a trovarne un numero interessante. Ma dove sono tutti? Dove stai andando tu? Chiedo ad uno che passa. Al centro estivo? Ecco dove sono tutti. Ma come abbiamo fatto a non pensarci? Arriviamo all'oratorio Belvedere. È già in periferia ma non è difficile individuarlo. Basta seguire il vociare tipico. Ci viene incontro un ragazzo che dice di essere Don Matteo. Siamo lontani anni luce dal bel centro medievale e dai giganti dell'avanguardia ma Noi qui abbiamo tutto. Anche una mensa. Mangiate con noi? Grazie Salone Dugentesco, splendido Chiostro. Noi ci trasferiamo al centro estivo Belvedere. Confidenzialmente Belve. Entusiasmo a sentirsi benvenuti. Ma di cosa esattamente parleremo con questi ragazzi? L'arca e i tesori dell'avanguardia sono a due passi ma questi del Belvedere li avranno mai visti? Ci saranno mai stati? E Calder, Mondrian, Mirò? Chi sono per loro? Le risposte le avremo. Ma intanto Don Matteo ci porta dove sa lui. Si chiama Area 24. Un numero per un non luogo, che però è il padre di tanti dei suoi ragazzi, che qui ci lavoravano e adesso dismissione totale. Un mondo di lavoro che non c'è più. È quasi come una legge del contrappasso, tanti del Belvedere è qui che passano il tempo quando non c'è l'oratorio. Di notte, per esempio. Un agglomerato di edifici industriali completamente vuoti. muri muti, che non possono più raccontare, che però qualcuno vivifica a suo modo. Graffiti, tantissimi ed alcuni bellissimi, che raccontano un altro presente. Mattinate di fughe da scuola, piste da skate autoprodotte, nottate anche creative che lasciano una qualche forma di bellezza. Tutto questo, a Peggy, sarebbe piaciuto moltissimo. Bellezza amara, cruda, controversa, cattiva, violenta, buia. Ma bellezza. Qual è stato il tuo giorno più bello, Giacomo? Anna, Andrea, Giovanni, Giuseppe? Un posto bello. Un giorno più bello degli altri, ce lo abbiamo tutti. Partiamo da lì e stiamo ore e ore seduti ad ascoltarci, a parlare, a raccontarci vite, mille idee di bellezza così diverse, semplici e stupefacenti che questo, questo entrare l'uno nelle vite dell'altro, diventa la bellezza più vera. Ascolto è bellezza. Poi ci sono stati incontri nelle aule magne delle scuole, nelle classi, nei laboratori, nelle loro feste, i pranzi nell'oratorio, il centro estivo. Tanti incroci e scambi culminati nei rave teatrali per tutti quelli che volevano esserci. Tutti? Ma quanti sono? Centinaia, non importa. Facciamo che incontriamo tutti quelli che vogliono, tutte le volte che possiamo e vediamo chi resta. E va bene l'aula magna dell'istituto, va bene la grande sala professori del CNOS, ma noi vogliamo anche il teatro civico, il teatro, quello dove vanno i grandi artisti e vogliamo portarci i ragazzi, i ragazzi del CNOS, dei licei, dell'APIS, del conservatorio. Per quasi tutti è la prima volta nel teatro più bello e grande di Vercelli e adesso, su quel palco, ci sono i ragazzi. Grazie per la visione, ciao! Grazie a tutti.